Eccoci tornati, adesso andiamo a collegarci nuovamente con Diego Di Polito che nel frattempo insieme a Cesare Baccheschi si è spostato, si trova in zona tortaia perché parleremo insieme a te Diego e ai tuoi ospiti della situazione di alcuni alloggi di edilizia popolare. A te Diego. Sì ciao Ilaria, siamo qui a Villaggio Dante insieme al Presidente di Arezzo Casa Lorenzo Roggi, sì affronteremo sicuramente insieme al Presidente il tema degli alloggi di Via Montale ma insieme visto che ci confrontiamo da anni su questo tema cercheremo anche di andare oltre, cercare di capire qual è lo stato attuale degli alloggi e quali sono le prospettive future ed è per questo che ci siamo proprio trovati qui Lorenzo. Tanto rapidamente la questione degli appartamenti di Via Montale quando sarà risolta e anzi riassumicela perché mi sono dilungato ma non ho poi centrato il punto. Tanto buongiorno a tutti, molto semplicemente su segnalazione dei vigili del fuoco il mese scorso abbiamo fatto un primo intervento in Via Montale, abbiamo accertato appunto il fatto che ci fosse stato un abbassamento di un solaio, cosa che non dovrebbe succedere in strutture di cemento armato, quindi ci siamo immediatamente attivati in collaborazione con il Comune di Arezzo, abbiamo immediatamente ricollocato le famiglie in altri alloggi nostri temporaneamente facendogli fare un passaggio in hotel perché c'erano dei tempi tecnici non abbattibili, dovevamo fare le volture delle loro utenze nelle nuove case e li abbiamo ricollocati lì, ci siamo occupati noi del trasloco, di tutto quello che è stato necessario appunto per questa ricollocazione e immediatamente abbiamo dato un incarico a un importante studio esterno sia per la messa in sicurezza che per lo studio del caso. A breve ci aspettiamo da loro una relazione conclusiva, cercheremo di capire esattamente che cosa è successo ma soprattutto quali tipi di intervento saranno necessari per il ripristino e la messa in sicurezza. Una volta fatto questo le famiglie potranno poi tornare all'alloggio di origine. Allora Elaria, voglio fare anche un attimino un po' il quadro della situazione degli alloggi popolari in città, l'edilizia Residenza Repubblica, sono ad Arezzo 1300 e questi 1300 sono gestiti dalla società Arezzo Casa rappresentata dal Presidente Roggi che secondo il contratto di servizio, quindi un contratto che intercorre tra Arezzo Casa e i vari comuni, in questo caso il Comune di Arezzo, Arezzo Casa si occupa dell'amministrazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria però con un budget Presidente che è veramente limitato per affrontare i lavori di cui necessiterebbero delle strutture che ormai sono anche datate. Sì, purtroppo non esistono più come in passato linee di finanziamento né statali né regionali che possano garantirci una progettazione continua. Solo per farvi un esempio, io sono Presidente da due anni, in questi due anni l'unico finanziamento che abbiamo ricevuto dalla Regione Toscana era dedicato agli alloggi di risulta, cioè agli alloggi di cui noi rientriamo in possesso e ristrutturiamo prima di riassegnarli. Un budget molto basso e insufficiente che abbiamo completamente esaurito sia l'anno scorso che questo. L'anno prossimo ci sarà l'ultima tranche e non sappiamo se eventualmente ci saranno nuovamente finanziamenti dedicati alle risulte. Per il resto non abbiamo mai usufruito di nessun finanziamento diversi da questo. Quindi ci siamo tenuti in piedi con le sole nostre forze che poi fondamentalmente sarebbe la riscossione dei canoni. Abbiamo un budget totalmente insufficiente per fare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate e non. Dobbiamo affrontare anche delle emergenze come questa di via Montale che purtroppo ovviamente non sono prevedibili. Quindi è molto molto difficile riuscire a portare a termine il nostro compito. Facciamo sempre una selezione e andiamo a fare gli interventi improclastinabili, tralasciando anche degli interventi che sarebbero importanti da fare ma purtroppo non si possono fare indebitando l'azienda. Sarebbe necessario oggi immagino un grosso intervento anche da parte dei comuni e rivedere questo contratto di servizio, visto che più passa il tempo e più gli elementi che portano a pensare che se non necessari degli interventi strutturali sono forti. Ora, proprio oggi l'ex assessore Ceccarelli che si occupa proprio della casa ha annunciato che arriveranno nel nostro territorio circa 8 milioni dal PNRR. Questi potranno essere un beneficio importante e come si potranno investire? Sì, adesso ci sono delle opportunità, come sapete se ne è parlato tanto il Pinqua che riguarderà un edificio in particolare che è anche vicino da dove siamo adesso, la possibilità del 110 sisma bonus ed eco bonus, tra poco partiremo con un bel po' di lavori a livello provinciale, i soldi che arriveranno del PNRR, ecco queste sono tutte straordinarie opportunità che vivremo da qui ai prossimi anni, che però non sono strutturali, una volta esistevano fonti di finanziamento che sostenevano l'edilizia residenziale pubblica in modo programmabile, adesso questa cosa non è più così. Noi come sapete paghiamo un canone ai comuni della provincia, ai comuni dell'Ode, 300 mila euro l'anno che dobbiamo dare ai comuni per poter fare questa gestione, ci dobbiamo occupare della gestione di tutta la manutenzione straordinaria che invece dovrebbe essere in capo ai proprietari, purtroppo il contratto di servizio è molto sbilanciato e ci sfavorisce, quindi tutte queste situazioni messe insieme ci rendono il lavoro veramente difficile, quello che servirebbe sarebbe poter contare su finanziamenti certi e su cui poter fare una programmazione a lungo termine. Anche perché per quanto possa sembrare un numero importante, quello dei 1.300 appartamenti ad Arezzo, in realtà è parametrato agli abitanti, non è un numero così esorbitante, è anche in considerazione del fatto che negli ultimi decenni molte case sono state prese in acquisto e non sono state rimpiazzate con altri alloggi popolari. Sì, assolutamente, noi abbiamo più o meno 3 mila alloggi in provincia, quindi rimaniamo più o meno sull'1%, ci rendiamo tutti quanti conto, vivendo la realtà, che ci sarebbe una percentuale maggiore di cittadini che avrebbero bisogno di poter utilizzare questo ammortizzatore sociale. Sicuramente Arezzo-Città, la situazione si sente maggiormente nelle città più grandi che hanno una maggiore tensione abitativa, quindi per quanto riguarda la provincia di Arezzo, Arezzo, Montevarchi, San Giovanni-Valdarno, Bibbiena, i comuni un po' più grandi hanno maggior tensione abitative e quindi più bisogno di alloggi. Dopo il piano vendite che negli anni ha depauperato il patrimonio che avevamo, purtroppo le nuove costruzioni non sono state sufficienti e quindi ci sarebbe bisogno, tra le altre cose, anche di incrementare notevolmente il numero degli alloggi. Bene, Laria, se non hai domande da studio ti restituisco la linea. È stato molto esaustivo questo collegamento, grazie al tuo ospite Lorenzo Oroggi, grazie per il lavoro di oggi sempre sull'attualità. Adesso noi tra pochissimo torniamo perché è pronta in collegamento con noi la dottoressa Barbara Lapini.